Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, primo video su War Thunder mi pare In questo video andremo a esplorare i T-34, T-34-42 e T-34-41 in particolar modo Ho anche il T-57, ho anche il T-34STZ e il T-40, ma magari se poi ci faremo un video a parte E niente, adesso ci lanciamo subito in battaglia Andiamo a vedere di cosa sono capaci i russi e il loro Stalinium, a dopo Ok, registrazione on e si va Mappa Cargoport, porto merci Ci sta, allora abbiamo l'asse del male con russi e tedeschi in squadra dell'inferno Con cinesi e italiani contro americani e inglesi Già, qua è un po' incasinata Prima fare una cosa, vediamo se ci casca Ho emesso i dubbi, a proposito Ok, vediamo se ci casca Posso solo dar fastidio ora Ok, bene Bella Bella, bella per il Valentine Ricarica lentissimo al momento Giù pure il Locust Fantastico C'è uno Sherman a qualche parte E' quello? No? Dove è lo Sherman? Di là Amico mio Adesso Adesso ti distruggo Bene, bene, bene Ne vedo un altro lì in fondo Ah no, è l'SMK Niente, come l'ho detto Bene, è andato giù l'SMK Qui davanti Quindi abbiamo un altro Sherman laterale Un altro Sherman qui davanti Vediamo se riusciamo ad avere un po' d'angolo Su questo Critico, comandante No È mancato Non fregarmi la Kilti 34 È mio Giusto perché lo sa Ok, non è mio Puoi prendertelo Facciamo una cosa bella Fuori il cannone E ce lo mangiamo come ci pare Ora di venire flencato Ok, l'hanno chiuso Benissimo Purtroppo non avevo angolo su di lui It Cosa sarebbe quella a fare Una specie di KV2 Hit or miss I guess Di averci missato proprio male male Da KV2 KV2 crocco, credo KV2 KV1 Certo C'è qualcosa qui sotto? Sì Ho sentito amico mio No No Russian bias Non si batte Perché sta spavendo su Discord Ma che cosa Bravo KV1 Che mi dico a me Panzer 4J KV2 No, non lo so Il mio ping Sta bene com'è ora No Beh Era proprio difficile qua Ci sta No ho fatto un long shot assurdo ma fai che sia almeno un chilometro di distanza a presto a presto a presto a presto fregandosene dei nemici sparano a tutto quello che si muove tanto sono più branded di me gli altri odio gli stug a presto a presto troppo facile far così la base non la push se ci sono io dentro ed ecco ragazzi con questo video volevo solamente farvi capire quanto sono OP i T34 T34, T34 42, T34 41 vedete anche le micro non è che siano chissà quanto skillate anzi il contrario però avete visto che si può fare davvero bene con questi carri basta avere un po' di senso dello spazio e la capacità di leggere le giocate degli avversari che non è così tanto complicato alla fine bene vi chiede di dolore di fenomeno non è così non è così come se non è così allora quindi non è così come è così vecchio e lasciate un commento per sapere cosa migliorare Grazie per la visualizzazione e ciao a tutti e alla prossima